Prima fila, Magazine. E ora andiamo al Teatro Deon, dal 5 al 7 aprile c'è lo spettacolo Persone naturali e strafottenti, è un classico tra i testi di Giuseppe Patroni Griffi, la regia in questo caso però è di Giancarlo Nicoletti, che è uno dei protagonisti insieme a Guglielmo Poggi, Livio Beshir e Marisa Laurito. Grazie per essere con noi Marisa. No, grazie a voi naturalmente, noi siamo in fine stagione, le ultime botte di questo spettacolo che ci ha dato tanta soddisfazione perché lo portiamo in giro da tre anni, abbiamo avuto un grande successo sia grazie a Giancarlo che è stato un grande regista ma anche diciamo che siamo un gruppo molto affiatato e un livello attoriale molto alto ma soprattutto grazie a questo testo meraviglioso di Peppino Patroni Griffi che fu uno scandalo negli anni 70 ma che oggi ancora è più moderno di allora. Quindi Peppino ha avuto una visione scrivendo questo testo. Ecco è proprio questa la prima domanda che volevo farti Marisa perché il testo ha 50 anni, diciamolo è del 73 ed è un testo ambientato da Patroni Griffi la notte di Capodanno a Napoli e siamo nella casa di Donna Violante che affitta camere e un femminiello, un travestito, Maria Callas che poi è un personaggio che Patroni Griffi aveva anche ripreso in un altro testo, vuole ospitare insomma dei clienti. Quindi sono delle solitudini che si incontrano. Diciamo che Donna Violante ha un contratto con questo travestito che ogni tanto gli affitta la camera. lei si è preparata per passare una serata da sola ma serena perché vuole festeggiare l'anno nuovo, piccole cose, vuole buttare da sopra a basso, dice tre scafaree vecchie e sono tre pentole vecchie e purtroppo questo travestito viene col contratto a fittare la casa proprio la notte di Capodanno ed è l'unica stanza che lei fitta e lei è costretta a passare Capodanno in cucina e poi assistere due omosessuali che si fanno male durante l'atto sessuale e quindi in questa notte terribile dove quattro personaggi, ognuno solo, si legge questa solitudine che negli anni 70 non c'era ma che Peppino aveva previsto. Nel futuro questi personaggi che si mettono insieme ma che pur parlando molto non si parlano. La solitudine è uno dei temi principali proprio di questo testo e dicevi tu giustamente negli anni 70 era diverso rispetto a oggi. Siamo più soli oggi secondo te? Assolutamente. Sì, negli anni 70 anzi c'erano le persone che si parlavano, che si aiutavano, c'era un'altra atmosfera completamente. Ma lui come Pasolini ha previsto tutto quello che sarebbe accaduto. In questo testo si legge anche un'altra cosa, cioè c'è questo ragazzo giovane che studia, si fa mantenere dalla famiglia anche se è grande d'età, non vede l'ora di vivere, come dire, una vita di leggerezza, di solo di bellezza e in questa notte capodanno si va a scegliere per passare la sua nottata un nero che invece di essere un nero ignorante è un intellettuale, è uno scrittore. Quindi lui anche questo aveva previsto, aveva visto lungo, cioè nel senso che le minoranze sarebbero diventate quelle che avrebbero comandato. Infatti il nero dice verrà un giorno in cui noi vi metteremo sotto a voi bianchi. Io credo che Peppino quando ha scritto questo testo è stato proprio illuminato, ha avuto un'illuminazione dall'alto. E questo sono i grandi autori, perché bisogna proprio dirlo. Senti, la prima volta questo ruolo è stato interpretato da Pupella Maggio. Ti sei mai posta? Una grandissima attrice, sicuramente lei lo avrà fatto meglio di me, anche perché Peppino scrisse la parte per lei. Io ho interpretato questa donna in modo diverso, perché lei la faceva, la interpretava in modo cattivo, appunto molto anziana. Io la faccio anche con una certa ingenuità, perché è una donna che ha iniziato la sua carriera nei casini. A 16 anni è stata messa in un casino e lei per lo schifo che ha guardato e che ha visto tutta la vita non ha mai fatto l'atto d'amore, quindi non si è mai innamorata, è rimasta vergine e lei a un certo punto dice io sono vergine, a me gli uomini mi hanno fatto schifo da subito e lo dice con un certo orgoglio. Quindi nonostante tutto io noto in questo personaggio così crudo, così solo, così povero una certa ingenuità ancora nella vita che si vede dal fatto che lei voglia festeggiare comunque e nonostante la povertà sia morale che di Danaro. Marisa tu hai sempre utilizzato tra le tue armi sul palcoscenico diciamo così anche l'ironia. Allora la domanda che volevo farti è questo, cosa ti fa ridere? Beh a me far ridere vengo dalla commedia dell'arte, quindi mi fa ridere quella e mi fa ridere, amo ridere e far ridere con le tragedie, che è proprio una scrittura tipicamente napoletana, cioè dei grandi autori napoletani come Edoardo, come Peppino Patroni Griffi, come Ruccello. Si ride attraverso le tragedie, quindi una comicità alta e una comicità poggiata sulla drammaticità della vita. Poi naturalmente mi fanno ridere anche le pochade, mi fa ridere tutto quello che è elegante e che sotto ha comunque una base di cultura. Io sono molto contento di aver fatto quattro chiacchiere con te Marisa e voglio ricordare al nostro pubblico che lo spettacolo persone naturali e strafottenti di Giuseppe Patroni Griffi per la regia di Giancarlo Nicoletti che sul palco insieme a Guglielmo Poggi, Livio Beshir e appunto Marisa Laurito è al Teatro Deun dal 5 al 7 aprile. Grazie ancora Marisa. Grazie a voi per avermi intervistata, grazie a te davvero. A prestissimo.